vangelo per i piccoli capitolo 13 del vangelo di marco allora mi raccomando come sempre prima cosa candelina accesa leggere il testo per bene con attenzione oggi è un po più complicato del solito probabilmente quindi c'è bisogno di ancora più calma silenzio pace radunatevi tutti e poi ci rivediamo tra un attimo dopo però aver preso con voi il segno per stasera che è una sveglia cercate la sveglia più sveglia del mondo cioè la più antica quella con i campanelli con le con le suonerie strane non quelle elettroniche dentro di orologi ma se avete solo quella va bene anche quella poi mettete in pausa ci vediamo tra un attimo avete letto forse fa un povero questo vangelo parla di cose strane di segnare il cello di dolori abominio eccetera eccetera però dobbiamo fare molta attenzione perché perché il vangelo poi alla fine dice una cosa semplicissima vegliate vuol dire che quindi questo capitolo come tutto il vangelo non è detto per annunciare chissà quali eccatombi quali catastrofi del mondo ma ci ha detto per insegnarci a comportarci qui oggi per bene in questo nostro tempo il resto conta poco allora tutto il resto ci serve per comportarci nella maniera migliore possibile è chiaro sappiamo che ci sono persone che ingannano sappiamo che ci sono tanti dolori ma questi fanno parte della storia guerra rivoluzioni è inutile che sia Gesù che ce lo dica se uno apre libro di storia non è fatto altro che di guerre però c'è un segno importantissimo in qualche modo ci sarà un compimento soltanto quando il vangelo sarà proclamato a tutti allora vedete che il compimento della storia la fine del mondo non è un tempo la fine del mondo è una pienezza è la pienezza dell'annuncio che aiuta le persone a perseverare chi chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato ci può essere un guazzabuglio bestiale una terribile sommovimento rivoluzioni terremoti tutto quanto ma c'è un vangelo che ci insegna a perseverare ad andare avanti sappiamo però che l'abominio della desolazione sarà presente a un certo punto là dove non è lecito questo è una ripresa di una grande profezia dei profeti dell'antico testamento dove in qualche modo si annuncia che ci sarà il grande ribaltamento quello che è l'idolo verrà messo al posto di dio tutte le volte che noi pensiamo che ci sia qualche cosa più importante di dio in qualche modo facciamo lui il signore della nostra vita quindi costruiamo un idolo l'uomo ha sempre bisogno tutti noi abbiamo sempre bisogno di un idolo i calciatori che ne so al mangiare i vestiti le scarpe però è importante che noi lo riconosciamo e che riconosciamo che quando capiamo che l'idolo in qualche modo ha preso il posto di dio abbiamo molta fretta di scappare e di trovare un'altra casa di trovare appunto un'altra situazione perché certamente lì poi bisognerà che il sole si oscura cosa vuol dire che per combattere l'idolo bisogna che ci sia proprio il combattimento cosmico se vi ricordate alcuni vangeli quando gesù muore il sole si oscura perché appunto il grande combattimento finale che è già avvenuto però tra gesù e l'umanità e l'umanità cattiva da gesù e il male in qualche modo prevede che il sole si oscura quindi ci saranno certo tribolazione ci sarà il sole che si oscura ma noi siamo già certi che il signore ha già vinto perché appunto tutti i segni ci dimostrano questo anche il signore del fico dalla pianta del fico imparate questa parabola quando mai il suo ramo diventa tenero e spunto nelle foglie sappiate che restate vicino così anche voi quando vedrete accadere queste cose sappiate che egli è vicino alle porte quindi senza paura sapere che gesù arriva e tutto questo in questa generazione versetto 30 non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno non sappiamo il tempo ma sappiamo che è così che cosa vuol dire tutto questo vuol dire che noi come cristiani possiamo stare con grande speranza nella storia speranza vuol dire che tutti i nostri nemici sono già stati vinti e che quindi possiamo andare avanti senza nessun tipo di problema solo bisogna vegliare bisogna vegliare nella casa segno appunto che proprio nei rapporti più ordinari più quotidiani in quello che viviamo tutti i giorni noi dobbiamo fare molta attenzione a vegliare cioè essere capaci di osservare con precisione e di sapere esattamente quello che sta succedendo la veglia la fa la sentinella la sentinella è uno che sta attento perché sa che può arrivare un pericolo ma quando arriva il pericolo sa anche quello che deve fare allora chiediamo che sono ricevuti a vegliare a vigilare stare attenti alla nostra vita perché è un bene preziosissimo e anche la vita delle altre persone perché forse ancora più prezioso di questo allora mi fermo un secondo prendete la sveglia e capite bene che cosa volevo dire però mi raccomando questo vuol dire che oltre ad avere fede oltre a essere capaci di amore di carità soprattutto dobbiamo avere speranza cioè essere persone che guardano al futuro certi sapendo che il signore ha già vinto ogni nostro nemico ci fermiamo un attimo ragionate insieme su che cosa della sveglia e poi è ovvio che noi vogliamo tenere questa sveglia vicino perché ci aiuti a vigilare a vegliare e non addormentarci mai dite insieme il padre nostro e poi cerchiamo davvero di accompagnarci gli uni gli altri nell'amore del signore alla prossima puntata buonanotte per chi dorme buona giornata per chi è all'inizio della sua giornata